L'annuncio ufficiale è datato 20 aprile, un mese e mezzo dopo la sostanza non cambia. La Vigortrani resta alla finestra per quanto riguarda il capitolo ripescaggio e continua a manifestare la volontà di perfezionare attraverso la porta di servizio il salto di categorie in serie D. Il Presidente ha ribadito che questa è la sua volontà, sempre che ce ne siano i presupposti, perché se non c'è questa riunione del giorno 8 in cui verranno fuori le direttive federali per capire quali saranno le organizzazioni dei campionati, chiaramente in questo momento sono tutte supposizioni e quindi la società è in stand by nell'attesa di capire se ci possano essere le condizioni per chiedere un eventuale ripescaggio, ma rimane questa l'intenzione societaria, così come è ribadito dal patron qualche giorno fa. Capito lo stadio, per continuare ad utilizzare il comunale la Vigortrani deve risolvere alcune incombenze economiche con Palazzo di Città, come ha sottolineato nei giorni scorsi a Telesveva il Sindaco Amedeo Bottaro. Quello che è il lato economico e quelle che sono le pendenze vanno sistemate, però chiaramente probabilmente c'è bisogno anche di garantire per il futuro che ci sia lo stato del manto erboso che dia la possibilità di esprimere quello che è il potenziale della squadra, quindi voglio dire che probabilmente le due cose sono legate dal fatto che si aspetta di avere una certezza per usufruire di un campo di gioco che sia in linea con quelle che sono le esigenze di un campionato d'eccellenza. Capitolo futuro possibile che a prescindere dalla categoria possa continuare il rapporto tra il tecnico Angelo Sisto e la Vigortrani avviati inoltre i primi contatti con i giocatori presenti in rosa per una eventuale conferma. Al momento il Presidente mi ha dato mandato di capire quello che possono essere gli eventuali riconfermati per la prossima stagione, al momento sembrerebbe che questa intesa tra me e la società ci sia, per cui stiamo iniziando a muoverci, però con la cautela di una società che in questo momento non ha ancora la certezza di quello che sarà il campionato da affrontare e quelle che saranno le certezze per andare avanti per il futuro.